ben trovati cari amici di ellas live è questa la nuova sede dell'ellas verona siamo sempre in zona zai precisamente in via olanda numero 11 e questo lo stabile acquistato dal presidente maurizio setti 1400 metri quadri suddivisi su quattro piani come potete vedere ci troviamo tra il parcheggio multipiano della fiera e l'attuale sede del club giallo blu di via francia questo sarà il nuovo quartier generale del club giallo blu